Tales of Kenzarazaw è uno di sé attoccante di perdita e guarigione, un esempio di elaborazione di un luto che dà vita ad una narrazione magistralmente incastrata con il genere dei Metroidvania. Il gioco si inserisce all'interno di un filone, quello dei Metroidvania appunto, che sta vivendo una seconda giovinezza, complici le uscite recenti di due meraviglie del genere, ovvero Prince of Persia The Lost Crown e Ultros, titoli che hanno permesso di rinnovare l'interesse nei confronti di questo genere. Il genere inoltre permette di incanalare perfettamente il titolo verso una solida destinazione. L'esplorazione di un mondo in stile Metroidvania richiama la sensazione di superamento, nella vita reale, di una difficoltà. Dopotutto, proprio come in un Metroidvania, la progressione e il superamento di un lutto avviene gradualmente, tramite l'acquisizione di strumenti necessari per progredire nell'interiorizzazione dell'accaduto. L'esperienza di Tales of Kenzarazaw, grazie alla progressione scalare tipica del genere di appartenenza, diviene una metafora della crescita personale del protagonista, ma anche della giocatrice o del giocatore. Un viaggio introspettivo di scoperta che vuole insegnare a fronteggiare le difficoltà con la giusta dose di determinazione, sollevando Zuberi dall'arduo compito di fare tutto da sé. Il protagonista della meravigliosa storia narrata da Tales of Kenzarazaw è appunto Zuberi, un giovane proveniente da una città afrofuturista che da poco ha subito la perdita del padre. Zuberi, complice al supporto della madre, si tuffa nella rettatura di un libro che il padre defunto ha lasciato in eredità. In un attimo veniamo trasportati nel passato, impersonando Zhao, il quale sta affrontando anche egli il dolore a seguito della perdita del padre Baba. Incapace di superare questo dolore, invoca il dio della morte Kalunga, un uomo anziano e pragmatico che affida a Zhao una missione, pacificare ettere grandi spiriti per ottenere la vita del padre. Qui Tales of Kenzarazaw tuffa il giocatore nelle viscere di un viaggio propedeutico che attraversa sentimenti di dolore e perdizione, accompagnati da momenti di speranza. Il desiderio di riportare in vita il padre è percepibile in ogni dialogo tra Zhao e Kalunga, e tocca il cuore del giocatore, specialmente quando i due si confrontano sul significato del dolore e della morte, riflettendo sulle esperienze che li circondano. Attraverso i quattro atti del gioco, Zhao fornisce aiuto ai diversi personaggi che incontra, ognuno dei quali incarna una risposta al dolore. Potrebbe trattarsi di una giovane ragazza che spera di ricongiungersi con uno spirito perduto, o di un guerriero esausto che cerca di ritrovare il figlio scomparso, o ancora, di un compagno sciamano stanco che cerca in vano gli ingredienti, per un tonico ricostituente. La narrazione di Teizu Kenzarazao è resa ancora più profonda dalla performance vocale eccezionale di Abubakar Salim, attore britannico nuoto per il suo ruolo da protagonista in Assassin's Creed Origins e fondatore di Surgeon Studios, che ha riversato nel gioco la sua esperienza personale con la perdita del padre, donando a Zhao e Zuberi un'autenticità emotiva davvero palpabile. Teizu Kenzarazao ci prende per mano e ci conduce all'interno di un intricato labirinto nel quale la mitologia Bantu fa da padrona. La cultura africana infatti permea ogni angolo e dona ai vari biomi presenti carattere e vivacità. Ogni area si distingue dalle altre, sia per la combinazione di colori che per le sfide. Il putriodo delle paludi, ma anche la rigogliosità della foresta, impattano direttamente sull'attraversamento della mappa, andando a condizionare il sistema di platforming e dunque l'attraversamento, ma anche l'assetto dei vari scontri che protagonista con i nemici presenti nella mappa, i quali tormentano Zhao attraverso un peculiare sistema di combattimento. Alla guida di Zhao raggiungeremo diverse aree che paiono riflettere lo stato d'animo del protagonista nel momento in cui infondono una sensazione di sollievo al raggiungimento di una zona verdeggiante, ovvero seminando il panico all'interno delle aree più scure. Il risultato è un mondo di gioco magistralmente realizzato dalle sapienti mani di Surgeon Studio, che non ha lasciato nulla al caso. Dal vestiario tipico di Zhao, siano lo stile degli oggetti principali o secondari che il mondo di gioco bidimensionale offre, passando per i coloratissimi dialoghi realizzati utilizzando la tecnica del self-shading, Zhao Kenzara Zhao propone un ambiente di gioco sempre riconoscibile e con una forte identità, sintomo di un lavoro che non si è concentrato esclusivamente sulla narrazione. Un plauso va dedicato alla colonna sonora presente in Zhao Kenzara Zhao, questa non è solo un accompagnamento musicale ma un'opera d'arte a sé stante, frutto di un lavoro meticoloso e di una profonda passione per la cultura africana. La compositrice Nainita Desai ha dedicato un impegno straordinario alla realizzazione di questa colonna sonora, ponendo particolare attenzione alla selezione degli artisti e alla valorizzazione delle loro capacità. Taser Kenzara Zhao non propone di rivoluzionare la formula di metroidvania, bensì tende a limarne ogni spigolatura, presentando un mondo di gioco dalle dimensioni più contenute ma che bensì confà alla trasversalità della mappa. Ogni bioma infatti è collegato dai classici attraversamenti tipici del genere, porte o varchi sbloccabili, solo una volta sbloccata una determinata abilità. Al centro dell'esperienza di Taser Kenzara Zhao si erge un classico sistema di platforming solido e coinvolgente, che rappresenta certamente il punto di forza del titolo. I movimenti del protagonista risultano precisi e reattivi, permettendo di attraversare il mondo di gioco con fluidità e superare le trappole mortali presenti nel percorso. Il protagonista può correre, eseguire doppi salti e scatti aerei immediatamente, e inciò Taser Kenzara Zhao fuoriesce dai canoni classici dei metroidvania. Dall'altro il sistema di backtracking avrebbe potuto beneficiare di alcune funzionalità di navigazione aggiuntive, anche di recente introduzione. Vedi la possibilità di effettuare screenshots introdotta da Prince of Persia The Lost Crown. Anche la struttura dell'intera mappa di gioco, nonostante offra diversi spunti interessanti in termini di platforming e, come già citato in precedenza, in termini di rappresentazione grafica, pare non sfruttare appieno le potenzialità di un metroidvania, offrendo pochi spazi di manovra per andare alla ricerca di oggetti segreti o quanto altro. Taser Kenzara Zhao offre un albero delle abilità in cui investire i punti abilità guadagnati, permettendo di potenziare le maschere del sole o quella della luna a seconda del proprio stile di gioco preferito. Tuttavia è importante sottolineare la dimensione ridotta di questo albero, il numero di abilità sbloccabili è limitato e con un po' di dedizione è possibile completarlo integralmente prima di affrontare il boss finale. Nelle fasi avanzate il titolo propone sequenze di inseguimento concitate nelle quali Zhao è chiamato a scappare da un nemico. Ecco, queste fasi, a tratti, lasciano un senso di frustrazione a causa principalmente della quantità di trappole mortali che farciscono il mondo, non che della leggera complessità richiesta per padroneggiare la telecamera. Sia chiaro niente che influisca su un'esperienza di gioco comunque appagante, eppure il desiderio di scaraventare a terra il joypad si fa più frequente in queste fasi. Il ventaglio di abilità sbloccabili come la planata, lo scatto potente e il potere di distruggere l'ambiente influiscono notevolmente sulla qualità del movimento e rendono ovviamente il platforming un po' più appagante. C'è bisogno per ora di anticipare un elemento che tratteremo un po' più tardi, ovvero la possibilità per Zao di utilizzare i poteri conferiti da due maschere, una rossa rappresentante il sole e l'altra blu rappresentante la luna. La maschera blu gli conferisce attacchi a distanza mentre la maschera solare gialla non rende abile nel combattimento corpo a corpo. La tipologia di maschera influisce anche nel sistema di esplorazione. Zao infatti, indossando la maschera blu, è in grado di sfruttare la capacità di congelare l'acqua o i nemici, dondolarsi dai fiori uncinati e sfondare cancelli rinforzati. Utilizzando la maschera rossa, al contrario, è in grado di lanciare lance in grado di attivare determinati congegni che aprono le porte. Il combattimento di Tales of Cancer Azao si presenta come un dueto armonioso fra due stili di gioco distinti, incarnati dalle citate maschere del sole e della luna, ognuna con le caratteristiche già anticipate precedentemente, il cui utilizzo impatta notevolmente sull'approccio scelto durante il combattimento, anche in considerazione della tipologia di nemico da affrontare. Al netto di un necessario periodo di ambientamento iniziale, nel quale il combattimento mi è parso leggermente sacrificato rispetto al sistema di platforming, Tales of Cancer Azao è riuscito a soddisfarmi anche da questo punto di vista. Il combattimento corpo a corpo è reattivo e soddisfacente, e picchiare la spada sui nemici dona una buona sensazione di appagamento. Dall'altro, anche lanciare frecce a ripetizione può rivelarsi un buon viatico per sconfiggere i nemici, in particolare volatili, tenendo comunque presente che le stesse non sono limitate e che è necessario, al termine, attendere qualche secondo affinché si ricarichino. Tranquilli, sbloccando alcune abilità, è possibile aumentare il numero di colpi disponibili. Impattanti sul combattimento sono anche diversi talismani di cui Zhao può dotarsi. Gli stessi recuperabili più o meno facilmente durante il corso dell'avventura possono essere indossati contemporaneamente, ma sarà necessario sbloccare lo slot attraverso il superamento di alcune sfide, che a conti fatti si riducono nello sterminare ondate di nemici gradualmente più potenti. Il gioco non propone una quantità smisurata di nemici, eppure ama giocare con ognuno di essi. La danza degli sciamani, ovvero sia la capacità di cambiare continuamente poteri per affrontare ogni insidia, è come detto il fulcro su cui ruota l'intero sistema di combattimento. Alcuni nemici infatti dovranno essere affrontati ricorrendo esclusivamente ad attacchi corpo a corpo o viceversa, in un tango che obbliga a essere riattivi nel cambiare maschera. Peccato che le mosse utilizzate dai nemici non spicchino per varietà. Gli stessi si limitano a ripetere sempre le medesime azioni e ci metterete poco ad apprendere ogni azione del nemico. Anche il combattimento contro i vari boss, nonostante aumenti il senso di sfida, in particolare per la maggior barra della salute, soffre di una leggera ripetitività. Tuttavia, come per i platforming, il combattimento di Tales of Kanzarazau tende a ristagnare nelle fasi finali di gioco. I combattimenti contro i boss, splendidi nella loro realizzazione grafica, riescono in parte a ravvivare l'esperienza, ma l'eccessiva focalizzazione sui nemici schermati richiede un'attenzione costante e un uso incessante del cambio maschera, risultato frustrante ma mai veramente difficile. Tales of Kanzarazau si presenta con un titolo promettente, con un sistema di platforming solido e un combattimento basato sullo scambio tra due maschere con stili di gioco distinti. Tuttavia, alcune criticità ne limitano il potenziale, soprattutto nelle fasi più avanzate di gioco, influendo in parte negativamente sull'esperienza generale del titolo. Per quanto riguarda il combattimento, i propositi di Surgeon Studios si infrangono, in primo luogo, contro un'intelligenza artificiale nemica decisamente carente, a tratti inoffensiva, nonché contro una scarsa varietà di nemici che propongono continui scontri ripetitivi contro gli stessi tipi di avversari, scontri che in alcuni punti non possono essere bypassati. Dall'altro, la struttura della mappa è più lineare rispetto a Metroidvania tradizionale e ciò influisce negativamente sul backtracking, limitato, quest'ultimo, alla ricerca di meri oggetti opzionali che quasi nulla offrono al miglioramento della generale esperienza di gioco. Il viaggio rapido è sì presente, ma la mappa non sfrutta pienamente il potenziale del genere Metroidvania. Come segnalato in precedenza, anche l'albero delle abilità proposto da Tales of Kanzarazau, nonostante apporti miglioramenti notevoli nelle fasi di combattimento, risulta piuttosto scarno e completabile facilmente utilizzando i parecchi punti che il gioco mette a disposizione. Questa scarsità di abilità sbloccabili potrebbe risultare deludente per alcuni giocatori, in quanto limita la progressione e la personalizzazione di Zhao. Il gameplay del titolo si presenta semplice e accessibile, ma allo stesso tempo manca di profondità. Tales of Kanzarazau è quindi una buona opera prima, un Metroidvania aperto a tutti, nonché un buon punto di partenza per i neofiti del genere. Al contrario, gli amanti di questa categoria percepiranno delle spigolature che rendono l'esperienza di gioco un po' frustrante. Ricordiamo però che Tales of Kanzarazau è il mezzo con cui Abubakar Salim ha cercato di superare il proprio luto, infondendo ogni speranza all'interno di un'opera interattiva, una bellissima trasposizione delle leggende tipiche della tradizione Bantu che il padre del fondatore di Surgeon Studios raccontava da bambino allo stesso. Insomma, è tutto. Un piacevole ricordo.